Il film, il libro, la composizione che vi raccontiamo in questo momento è stata addirittura citata da Flavia Durante la puntata di Marzullo, appena andata in onda Giulia Serapica che libro sta leggendo? Il vecchio al mare di Domenico Starnone Arianna Montanari Infinite Jest di David Foster Wallace E Flavia Capone invece? Io sto recuperando Rosemary's Baby di Ira Levin, classico dell'horror L'avete sentita? Lo ha detto anche un po' sottovoce Allora, si tratta in realtà del libro che stiamo leggendo, doveva essere per il mese di marzo Ma è stato per il mese di aprile, del gruppo di lettura The Fanks Che è il nostro gruppo di lettura dedicato all'horror Che io e Gabriella Giliberti seguiamo più o meno con alterne vicende per quanto è possibile In mezzo c'è la vita reale In mezzo c'è la vita che in effetti a volte picchia prepotentemente Però io ci tenevo tantissimo a leggere questo libro Un po' perché volevo esulare dal mondo dei vampiri o degli spettri E andare su qualcosa di un po' più consistente Ovvero il demonio Che è un po' insomma un grande... ecco E ho pensato di appunto proporre, poi Gabriella ha accettato con gioia, Rosemary's Baby Che è un libro del 1967, un romanzo di Ira Levin Che è uno scrittore americano Che poi è diventato l'anno successivo all'uscita Quindi nel 1968 subito un film di Roman Polanski Che si è subito accaparlato ai diritti Chissà se c'è una storia e dirlo a questo dovremmo chiedere a Gnola La storia di Rosemary's Baby Dovrebbe esserci una puntata su questo O storyboard o a cult Sicuramente ci sa qualcosa legato a Roman Polanski Perché sappiamo insomma che le sue vicende private sono quantomeno variegate Mettiamola così Pensate che il famoso eccidio che vede protagonista suo malgrado Allora moglie di Roman Polanski e poi tutto il clan di Charles Manson È avvenuto l'anno dopo, cioè nel 69 Di cosa si parla? Allora, Rosemary's Baby appunto è un romanzo horror Scritto da Ira Levin che non ha scritto solo questo Ne ha scritti anche altri Il primo romanzo in realtà l'ha scritto a 22 anni È sentito da Un bacio prima di morire Vince anche un premio Il Edgar Allan Poe Award nel 54 con quel romanzo Però Rosemary's Baby è sicuramente il suo romanzo più famoso Il secondo che ha scritto Poi ne ha scritti altri cinque Devo dire che è scomparso nel 2007 A Ira Levin Quindi neanche da tantissimissimo tempo In Italia è pubblicato da Sur In questo sì, esatto Sur che tra l'altro ultimamente sta facendo una riedizione Forse sta cambiando la copertina Quindi potreste avere un filo di difficoltà a trovare il libro Nel caso voleste acquistarlo in questo periodo Sicuramente ci sono le copie più vecchie Insomma, nelle librerie, almeno nelle librerie indipendenti Ma in generale nelle librerie fisiche trovo un po' di difficoltà Ma mi hanno detto proprio perché il distributore ha Probabilmente delle copie di Risulta È un momento di passaggio Con la vecchia copertina Esatto Quindi ci saranno Siamo in questo momento proprio ad anticiparvi Che fortuna sceglierlo adesso Questo lì però vabbè Vi stiamo anticipando qualcosa che succederà Succederà, vedremo Allora In questo caso io sto finendo Ho quasi finito di leggere il libro Abbiamo visto il film Io l'ho visto in realtà per la prima volta Qualche mese fa Purtroppo prima del libro Dico purtroppo perché il fatto di conoscere la trama Chiaramente mi sta un po' rovinando la lettura Perché questo è un libro decisamente di hype Decisamente di suspense Perché è un libro in cui le cose succedono poco alla volta E in cui il lettore e la lettrice dovrebbero immedesimarsi Nella protagonista che prende coscienza di una serie di cose Appunto con l'andare delle pagine Se già lo sai come nel mio caso È chiaro che questo meccanismo un pochino si spegne E vabbè Però intanto posso dire che il film è estremamente fedele È un'ottima trasposizione Non solo perché Polanski chiaramente è un ottimo regista Ora a prescindere da quello che si possa pensare come persona Però non è che ci si può fare molto Se uno è capace di fare il suo lavoro Però ecco riesce a mantenere tantissimo Secondo me questa atmosfera tensiva Vi racconto a sommi capi la storia È vero che è un grande classico Quindi secondo me tutti quanti sanno di cosa parla più o meno Però diciamo che la protagonista è una donna Anzi i protagonisti sono una coppia Una coppia di giovani sposi Lui fa l'attore Si chiama Guy Woodhouse E lei è Rosemary È la sua compagna Anzi sua moglie Non ha un lavoro Fa la casalinga fondamentalmente E i due si trasferiscono a New York Dove trovano un appartamento In uno dei grattacieli più diciamo ricercati Particolari della città Ottima zona Un'ottima zona ma proprio anche il grattacielo Non so se Secondo me questa è una cosa molto importante L'ambientazione Perché New York è un'ambientazione particolare Noi vista dall'Europa Secondo me non abbiamo tanto bene il polso di questa cosa Però da tanti film e tante serie Lo capiamo che i vari grattacieli di appartamenti Hanno un po' delle personalità Come no? Cioè è come se avessero Oltre a una storia Ma anche proprio un mood Cioè ognuno diverso Cosa che per noi forse potrebbe applicarsi un po' al quartiere Ma neanche proprio l'edificio Che ha una sua importanza In questo caso si tratta del Bramford Se non sbaglio Loro all'inizio del libro Praticamente avevano già trovato un'altra casa Avevano anche firmato il contratto E a un certo punto si libera questo appartamento nel Bramford Che è un po' il grande sogno di Rosemary Perché è un grattacielo diciamo molto elegante Con una specie di forma un po' Liberty Con questi mostri sulle facciate Un po' vecchio stile E a lei piace molto questa cosa Vedono questo appartamento Che apparteneva a una donna anziana Che è deceduta da poco Si innamorano E quindi rescindono il contratto precedente E vanno a vivere in questo Bramford Una delle prime cose che scoprono Sono i vicini Che è questa coppia di anziani I Kastevet Che abitano proprio alla porta davanti E che diciamo all'inizio li sentono solamente E poi iniziano a interagire con questa coppia La coppia giovane Fra le varie cose Ha anche in testa di fare un figlio prima o poi Ma lì per lì non sembrano molto interessati Perché Guy appunto è un attore Sta cercando di far regolare la propria carriera Fa un sacco di pubblicità Sta cercando di entrare nel cinema Nel teatro che conta Sta un po' faticando Perché nonostante sia bravo Non riesce a imbroccare Diciamo la strada giusta Fa un sacco di provini Cosa succede? Che questa coppia Entra appunto in confidenza Con questa coppia di anziani I Kastevet E io qua già non posso più raccontare niente Il libro Il titolo del libro ci fa capire Che si tratta di Che diciamo il fulcro della situazione È questo bambino di Rosemary Quindi a un certo punto Rosemary rimane effettivamente incinta Di chi? Di cosa? Non si sa O al meglio Si sa nel corso della storia Ovviamente Il film è tratto dal romanzo Ma nella trasposizione Esattamente nella trasposizione In Italia Viene presentato come Rosemary's Baby Nastro rosso a New York Esatto Esatto Quindi già c'è qualcosa in più Ci sono alcune dissonanze Tra il romanzo e il film Prima fuori onda Flavia mi raccontava L'aver apprezzato E non l'aver più tolto Dalla lettura del libro Dopo la visione Quella differenza tra Lo stile E anche un po' Questo suono Un po' gioioso Allora La cosa interessante Della trasposizione Di Polanski È che Lui ha colto Un tratto della storia Che in effetti Ci potrebbe stare Che nel libro Non è molto sottolineato Stiamo parlando Del fatto che Questa coppia Che i Woodhouse Conoscono Ovvero i Kastevet È una coppia di anziani Ma parecchio anziani Cioè lui Dovrebbe avere Intorno ai 79-80 anni Così come Tutti i loro amici Loro hanno tanti amici Sia interni A Gertacello Bramford Che esterni Che sono molto amici Amici stretti E che poi insomma Si scoprirà essere Qualcosa di più Sono quasi tutti anziani In più Quindi voi pensatevi Un po' Non utilizzo a caso Questo termine Una congrega Di anziani Che fanno cose Non propriamente Come dire Consuete Consuete Però Quindi Quello che fa Finisco Perché quello che fa Polanski È metterci un tocco di grottesco È anche un po' ironico Perché insomma Immaginatevi Sti vecchietti Abbiamo detto Si parla del demonio Pensiamo a un sabba satanico Dei vecchietti Cioè fa un po' ridere No come idea Quindi secondo me Polanski L'ha presa un po' così Ha detto Ah mo ci metto un tocco Di ironia Di grottesco Che nel libro Obiettivamente non c'è Quel tocco è il contorno di alcune sitcom tipo Sabrina vita da strega ma non la versione che vedevamo su Italia 1 Sì più quelle vecchiette quelle sitcom degli anni 70 e beh giustamente 50-60 Quindi la trasposizione ha giocato anche su questo Tra l'altro anche Aira Levin ha giocato su questo perché è l'autore anche del sequel Sì il figlio di Rosemary Ah nel 97 come ultimo lavoro ultimo romanzo lui ha fatto Son of Rosemary E c'è stato anche il film Ah ok Che però Non è andato benissimo Non l'abbiamo visto Allora leggo che E addirittura i diritti della versione cinematografica del romanzo Siano stati acquistati dalla Paramount Prima della pubblicazione del libro Cioè il libro è pubblicato diciamo in una data Diciamo una settimana, dieci giorni prima La Paramount aveva già acquistato i diritti del romanzo Aveva affidato la produzione a William Castle Che avrebbe voluto dirigere Rosemary's Baby Poi è stato annunciato invece il coinvolgimento di Polanski Che era insomma era molto apprezzato Addirittura fonte Wikipedia Però come si dice che Truffaut ha detto che il film era stato proposto all'inizio ad Hitchcock Che però aveva rifiutato Pensa a un Rosemary's Baby fatto da Hitchcock Ci potrebbe anche stare C'è un collegamento tra Hitchcock e Rosemary's Baby E il collegamento non è Zandaia come l'altra volta È la maternità secondo me il collegamento E Ira Levin lo stesso Perché lui è lo sceneggiatore di una Dell'episodio Sylvia di Alfred Hitchcock presenta Inoltre per dare appunto Pepe al tutto Il palazzo dove è stato il reggirato ma anche il protagonista del film È il Dakota Il palazzo Dakota nell'Upper West Side di Manhattan Dove l'8 dicembre dell'80 fu brutalmente assassinato Davanti all'ingresso Tal John Lennon Oh ma accidenti guarda Ma guarda ripeto Secondo me questa dimensione appunto new yorkese è estremamente importante Proprio dal punto di vista estetico per questo film Inoltre aggiungiamo Visto che l'ho citato un pochino di così Toccato vagamente il tema della maternità Che in realtà è un tema secondo me molto importante E molto interessante per come viene raccontato all'interno del libro Innanzitutto e poi anche del film Nel libro c'è questa Secondo me è reso anche molto molto bene Questa confusione in cui si trova la donna incinta Che del suo primo figlio Per cui insomma succedono cose completamente nuove al suo corpo Piena di ansie, di gioia ma anche di ansie E tutte le persone che sono attorno a questa donna Uscendo anche diciamo dal tema horror È proprio uno spaccato di quello che succede a una donna Che viene consigliata da chiunque in maniera diversa Cioè quello che ti dice fai questo perché ti fa bene Quell'altro che ti dice ma no ti ha detto una stupidaggia Devi fare esattamente l'opposto E quello che succede a Rosemary È esattamente questo Cioè lei si trova In mezzo a dei fuochi Di persone che dicono Che le dicono di fare cose Di prendere erbe Il suo ginecologo Che è insomma Un personaggio molto importante Nella storia Come una delle prime cose che le dice È non di ascolto alle sue amiche Che le diranno Che loro hanno fatto cose completamente diverse Ovviamente nel suo caso c'è un motivo Per cui la spinge diciamo A non interfacciarsi con nessun altro Al di fuori di una certa cerchia Perché ovviamente questo parto deve essere seguito Questa gravidanza deve essere direzionata Deve avere un suo obiettivo Una sua direzione Però quello che succede È quello che nella realtà Succede veramente alle donne Cioè che si confrontano Con tutta un'altra pletora Di persone che c'entrano e non c'entrano Con la gravidanza A volte gli uomini stessi vengono E ti dicono cose E tu dici scusa ma da che pulpito la predica Rosemary si trova in questa grande confusione Che non è solo una confusione legata all'orlor E alla presa di consapevolezza Che sta succedendo in lei qualcosa Che va al di là della naturalità Ma è anche questa confusione Del non avere punti di riferimento Non avere Cioè se anche il tuo stesso ginecologo Che è la persona che Diciamo dal punto di vista scientifico Dovrebbe essere la più fidata Diventa invece qualcosa di aleatorio Di inaffidabile Come comportarsi? Questa secondo me è una grande cosa Fuor di metafora Che è molto importante e molto interessante Infatti spero diciamo di trovare con Gabriella Qualcuno con cui confrontarmi Rispetto al discorso della maternità All'interno di Rosemary's Baby Perché trovo che sia veramente Un tema molto interessante e importante A proposito di confusione E di non avere riferimenti Come se ci fosse Come se stessimo navigando senza bussola Rosemary's Baby nel 2014 Ha avuto una trasposizione in miniserie È una trasposizione NBC Da Wikipedia Vediamo che è stata trasmessa in Italia Su Rai 4 Ma la cosa divertente Sì in realtà poi altre fonti dicono Rai 2 Quindi non è che La cosa divertente è che Zoe Soldana La Gamora Fa Rosemary Fa Rosemary Ma soprattutto Jason Isaacs Lucius Malfoy di Harry Potter Fa il vicino Quindi Sì esatto Anzietta Fa il casved Esatto Anche se secondo me è un po' troppo giovane Perché comunque ripeto Deve essere un vecchio anche Sì Il libro sottolinea molto il suo sguardo penetrante Secondo me lì Nel sommacomettore ci sta Però appunto dovrebbe avere 80 anni circa Direttamente dalla colonna sonora di Rosemary's Baby Però quella del 1968 Anche qui Anche nella storia del compositore Ci stanno delle cose che Non sono andate proprio dritte dritte Ci sentiamo L'Halabi from Rosemary's Baby Parte 1